ecco qui sono venuto a prendere i gambretti per la carlotta vediamo di trovarli non è già stato dove sono per cui vediamo quale prendere quelli più grandi o quelli più piccolini penso di ma stai come si vede male ecco adesso si vede meglio ci stanno i gamberi così ci stanno i gamberetti ancora più piccoli prendete il prezzo mistero fume i gamberi in piccola bici 3,90 euro prendiamo questi va sono abbastanza grandi senza cuscio credo e carlotta che apprezza penso un po di sì mi dispiace che prima il video non si è veduto bene perché questo telefonino non mette a fuoco le cose ci vediamo a casa e spesa fatta